Una bolgia per spingere il Bari alla vittoria. Contro la Provercelli nel turno infrasettimanale della sesta di Serie B, Mister Torrente non ha dubbi. Il Degli Olivi di Andrea, dove stasera si disputerà il match, è uno stadio piccolo e senza pista e il calore e l'incitamento dei tifosi possono fare la differenza. Una scelta obbligata, quella di disputare la gara in campo neutro per permettere che l'erba fresca, appena posizionata sul terreno di gioco del San Nicola, attecchisca senza traumi. Con il Bari ancora imbattuto, grazie soprattutto al miracolo di Lamanna che a Crotone ha disinescato in pieno recupero il penalty di Khalil, l'entusiasmo è buono e quella contro i piemontesi può essere la gara giusta per lanciare in alto i galletti. Il meno 7 di penalizzazione incide non poco sui sogni segreti della piazza e dello spogliatoio, ma con un torneo tutto sommato livellato, a parte qualche eccezione, la zona playoff non è poi un miraggio. La Provercelli è una matricola tosta, detto Torrente servirà a tenere un ritmo alto per aggredire con continuità e non permettere agli avversari pericolose ripartenze. Puntiamo come minimo a rimanere imbattuti, ha aggiunto il mister, ma è chiaro che con un successo si affronterebbe la trasferta del Bentegodi, sabato contro il Verona, con lo spirito di chi avrà a disposizione un jolly. Prima però c'è da pensare alla matricola piemontese che in avanti schiera l'ex leccese e tiribocchi. Fuori casa la Provercelli è ancora secco di punti, ma sabato ha battuto Lascoli con un netto 3-1. Sul fronte formazione, con defendi squalificato, l'unico dubbio di Torrente dovrebbe essere la scelta in difesa tra Borghese e Polenta. L'attaccante Ghezzalli intanto ieri è stato operato a Roma dal dottor Mariani per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro dopo l'infortunio a Varese e da giovedì inizierà il periodo di riabilitazione. Infine, per quanto riguarda i tifosi del Bari che stasera raggiungeranno Andrea, il consiglio è quello di partire con un certo anticipo, visto che i cancelli del Degli Olivi saranno aperti salvo novità solo un'ora prima del fisco d'inizio alle 19.45. Chi arriverà in auto potrà parcheggiare in largo a piani a circa 500 metri dallo stadio. La zona sarà costantemente presidiata dalla Polizia Municipale.